Ancora molti dubbi e indagini in corso sulla storia del presunto rapimento dell'imprenditore di Ascea, Giuseppe Mautone. Sono tanti i dettagli della vicenda da chiarire, ha riferito il procuratore di Ivalo della Lucania, Antonio Ricci. Stiamo verificando le dichiarazioni dell'uomo ed è necessaria la massima cautela. Gli investigatori stanno indagando e nella sfera privata del 48enne si attendono risvolti. Intanto salterebbero fuori altri particolari del racconto di Giuseppe agli inquirenti. L'imprenditore ha detto di essere stato rapito nel pomeriggio del 3 maggio in località Salice, poco distante dalla sua abitazione e di aver chiesto ad un amico di essere accompagnato lì per un appuntamento di lavoro. Una volta rimasto da solo sarebbe stato affiancato da un auto con a bordo due persone dall'accento marcatamente napoletano che lo avrebbero bloccato e fatto salire, incappucciato e trasportato in un casolare di campagna nella zona di Valle dell'Angelo, poi legato e pestato, tenuto per quattro giorni senza cibo. Gli uomini, secondo quanto spiegato dal 48enne, non si sarebbero mai fatti vedere in faccia e lo avrebbero liberato di notte senza pantaloni e scarpe e senza alcuna richiesta di riscatto. Ci si trova davanti ad una storia poco chiara, resta da scoprire il movente del rapimento. Pare che al momento del sequestro Giuseppe avesse con sé un'ingente somma di denaro.